Ho detto, dicevo, ho fatto un quadretto lì, in quell'angolo, da... Quell'angolo di chi dice... Staventare oltre le tue via... ...fine... 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 ...se no così con te, vogliamo capire le fatti di questi... ...e... ...e... ...ma allora, io non mi ricordo, quando non mi ho costato fare niente, perché mi ha costato... ...dolamente io non ho fatto un genere di... ...una calza, questa... ...maia chemi ho fatto e... ...una calza, questa, questa è quale... ...mdominant... ...ma mia credo, a tecnologia...